Io sono del sud, più sud che c'è, sprofondo sud, ma uomo del sud non c'è che più a sud, più in là del suo sud, un sud non trovi più sud del sud, non è un gioco di parole. Il sud è un paese bello assai, il sole è caldo e non si fredda mai, il mare azzurro verde è sperlucente, qui non si vide mai roba inquinante, siamo genti felici e stracontente, non abbiamo bisogno ma di niente, quasi campa d'aria, quasi campa d'aria. Il sud è proprio vero paradiso, se vuoi morire devi morire ucciso, signori ve lo dico in fede mia, qui non si sa cos'è la malattia, e non capisco con quale causale, ogni città ci fanno un ospedale, tutta roba inutile, tutta roba inutile, qua non muore mai nessuno, neanche i camposanti ci sono. Il sud ha un clima che è strabiliante, bisogni fisiologici per niente, è al nord che si beve e che si mangia, e c'è bisogno di evacuare la pancia, qui invece, bello detto in confidenza, non la sentiamo no, questa esigenza, quasi campa, campa d'aria, forza con me, quasi campa d'aria, che si son messi in testa i governanti, d'industrazaliarci a tutti quanti, fatevi i fatti vostri che non urci, avere al sud i centri i siderurgi, ma che bisogno c'è di lavorare, con sto cielo, sta luna e con sto mare, quasi campa d'aria, quasi campa d'aria, quasi campa d'aria, si campa d'aria no, e che si sono messi in testa questi qua ora, pure le scuole ci vogliono fare beccati, ma che non lo sapete che noi qui nel sud lasciamo tutti i scienziati alletterali, le scuole servono per gli ignoranti, non per noi che siamo intelligenti, quasi campa d'aria, si campa d'aria no, ma dice se si campa d'aria allora tutta questa migrazione, come si spiega? Si spiega, si spiega, perché a noi del sud è vero, ci piace viaggiare, conoscere altri paesi, altra gente, l'America, l'Australia, la Svizzera, la Germania, la Francia, il Belgio, anche l'Italia, perché è brutta Milano, è bellissimo, e Torino, che ci manca a Torino, infatti non posso più raccommodo, soprattutto conoscenze, la migrazione, si spiega, si spiega, altro che. Mi dicono che al nord è la notte scura, piena di nebbia e piena di paura, qui invece è giorno chiaro, permanente, ma che ci serve a noi questa corrente? Chi avete messo a fare, si lampioni, se cellano una pei, illuminazione, tutta roba inutile, tutta roba inutile, qua ci vediamo benissimo, anche da notte, c'è una luna, a prima mattina spunta l'unaca, e ci hanno fatto super autostrade, longhi e larghi, 40.000 metri, ma perché mai ce l'hanno poi asfaltate, per non poter piantare le patate, ma non per noi, perché no, non abbiamo bisogno di mangiare, per mandarla al nord, perché no, non abbiamo bisogno di niente, lasciate stare, non vi preoccupate, non si fa niente, qua si campa d'aria, si campa d'aria, no? Ma insomma, come ve lo devo dire, abbassonate che qua si campa d'aria, lasciate stare, non si importa, non vi applicate, qua si campa d'aria, si campa d'aria, no? Non lo sapevate?